C'è stata poi una riunione importante sull'oleoturismo, enoturismo e in genere sul turismo enogastronomico con il collega Felice Casucci, con tutto lo staff che ha predisposto il lavoro fino a questo momento. Stiamo definendo la nuova regolamentazione per avviare davvero questo settore. Siamo tra le prime regioni ad aver disciplinato, ma adesso dobbiamo andare avanti anche con la definizione di un marchio e soprattutto promuovere sempre di più la nostra regione.